Bene ragazzi, qui Dido, oggi incominciamo con la rubrica dei giochi indie abbastanza random Non horror, per quelli horror c'è una rubrica a parte Oggi proviamo Fistful of Gun Non ho idea di che cazzo sia, come al solito, come voi vedrete Tutti questi giochi indie saranno giocati da me per la primissima volta Quindi, vediamo se è una minchiata oppure se è fighissimo Si può giocare con il controller? Oh mio Dio! Sì! Ah no, vabbè, ok, mi sta che è una bossa Allora, click here to select, ci prendiamo, no, ah bello, zik Questo c'è lo shotgun, questo è la pistola e quello fucile Dai fucile, vamos, andiamo con lui Clicca qua per selezionare, questo qua, vai Sì, voglio lui, wow, dove sono? Cos'è sta roba? Ma io sono invisibile? Wow! Reload, come? Come cazzo fa? Ok Com'è che si ricarica? R? R? Com'è che si ricarica? Merda! Come minchia si ricarica? Wow, cosa ho fatto? Ce l'ho fatta Ok, dai che non mi possono vedere PUM! E non te l'aspettavi, è bastato Ma davvero Ok, va bene Ehm, vai Il fatto è che Il fatto è che sono invisibile subito Mi fa... no Ah, ecco, ecco come vi si fa, ok Va bene Mica, ma è difficilissimo Cioè, un colpo è sei morti qua Ma guardate che roba Via di lì Ma porca puttana È difficilissimo Ok, vamos Sì, si può, si può fare, si può fare Allora BOOM! Via, via, via Uh, 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 uh Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta, ok Porca merda Forse si può comunque usare il controller, eh Sì, si può, ok Ce l'ho fatta No, niente, cazzata Non credo si possa Comunque Perché trovo difficilissimo Camminare e Al contempo Ma vedete? Allora, facciamo così Non posso uscire, ok, vabbè Merda E uno è andato Ok No, via di lì Merda Ok Ce la faccio, ce la faccio Tranquilli Ce la faccio Pum, preso E uno Devo solo aspettare che Non mi vedano più Oh, minchia Mi stanno vedendo sempre e comunque Cioè Che palle Dai, continua Per favore Ah, no, ok, va bene Ok, play again Vediamo se si riesce A usare il controller Audio by Surashu Play local game Oh, ora Ora si Sto Usando il controller Sì, è questo Eh, dai Dai, minchia Olè, ok Vediamo se ora Wow Spara però Ma che cazzo Perché non spara più Ah, si spara Minchia che bordello Capito adesso Ho capito Ok, ok, ok Allora, guardatelo Olè Sto mouse in mezzo però Dai Dai, dai Olè Wow Wow Fighissimo in verità Ora che si riesce a giocare C'è uno lì Olè Ma è bellissimo Anche perché potete fare gli attacchi start Olè Cosa ci compriamo? Ci compriamo Qualcosa che mi fa correre più veloce Fast runner, vai Come si fa? Ah, così Ok Col destro Vai Ci sono Si parte fra due Uno, via Olè E uno E due E tre Voilà Merda Ricarica, ricarica Cazzo Olè Uh, uh Minchia mi sento il pistolero più veloce del West Ragazzi Guarda come ce l'ho Turgido Questo qua Velocità di ricarica Suppongo che sia Vai avanti così Vai Partenza fra tre due e uno Mi sta gasando troppo Voilà Uh, uh Minchia mi ha quasi preso quello lì Mi è andando Uh, uh Mi sta andando bene stavolta Altro che Ok ho ricaricato No Minchia che culo Wow, 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 wow 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 Minchia sei difficilissimo No Prendilo, colpiscilo Olè Chi è che manca ancora Vuoi tre Vuoi due ormai Vuoi uno tra poco Merda 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 Ricarica Ok Ci sono Comunque come al solito In questa rubrica Cioè Fa farlo sempre così Lascerò in descrizione il link Per il gioco Anche perché sono gli indie gratis Quelli che farò E ora facciamo Ehm No Ok Questo qua Mi aumenta la chance Di schivare un proiettile Che mi sarebbe fatale Buono Comunque c'è Si può anche giocare quindi in tre Sullo stesso pc Mi sa Comunque davvero ragazzi Il concept è così 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 semplice Che Aiuta a rendere Questo gioco Una Piccola gemma Secondo me Sia il concept Sia Il Il Design E tutto Anche il fatto che Quelle singole scatole Possono essere spostate Stringendole Andandoci contro Si creino coperture E cose varie Wow Minchia Cos'è Folle E' geniale Secondo me C'è uno dietro Mi sta però Però lì Non posso colpirlo No Come cazzo Mi prendo sto qua Minchia Cos'è Wow Wow No Uh Wow Spara Merda Spara Olè È andato Ce n'è uno lì Merda Questa ci fa il culo Olè Ahah Ehm Cos'è questo Tipo Increase The chance Of the body Of the body Mmm Mmm Ok Facciamo questo qua Aumenta la chance Che un colpo Esploda Al contatto Voilà Vamos E adesso Voilà Wow Minchia Cos'era quella roba lì Era È nel mio Prima Minchia Sono potentissimo ormai Sto bonus qua Mi rende Venì Una Una divinità Del Far West Perché non esplode Quando minchia Sono vicini Esplode solo Quando sono lontanissimi Fra loro Voilà Ne mancano ancora quanti Un po' Due Quale ho fatto esplodere Quel cosetto che c'era Last life Will make you Explore after being Killing Anyone No Cos'è questo No Va bene Sì Dai Questo qua Non vi sto a spiegare cosa fa Perché non è niente Niente di che Alla fine Alla fine Dove Dove siete Ma cosa volete fare Oh Non ho ancora sbagliato un colpo Ecco appunto Ho parlato Porca merda Ok Merda Ma guarda Mi sto mancando tutti Sti qua E uno Ok Ah merda C'ho anche però I caricatori Contati Non me li ero date Di sto fatto Wow Wow Piano Quanti cazzo siete Stavolta No No Cazzo Ci ho fatto Ci ho fatto Ho fatto Ho fatto Continuo Tranquilli Dovrebbe salvarmi Ciò che ho fatto Finora No Merda 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 Cioè È difficilissimo Ragazzi Vediamo No 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 Muori Muori anche tu Muori anche tu Ricarica 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 Ok Quello lì Quello lì Quello lì Quello lì Cazzo Ricarica No 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 Uh Uh Minchia che Due all'incredibile Con questo qua Non riesco a Ucciderlo Boom 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 Olè Cazzo Ricarica Però Non ricarica Veste in chiave Minchia se non ricarica Vabbè Dovremmo Dovremmo Avere Ce l'ha fatta ormai Come comincio a pensare Che non gli salva Comunque Quelli che Ammazzate Perché ogni volta Sono sempre un miliardo Quindi Ho Un caricatore Basta Ancora Mi sa Vediamo se è vero Ma guarda quanti Dai Impossibile Impossibile Così Allora Cerchiamo di Attirarli E camperare Ok Scusate se campero Ma a questo punto Mi sa che è la cosa più Furba che Si possa fare Quella Minchia ma Perché ci sono quelli là Che muoiono In due colpi Alcuni che vi sparano Un casino di colpi Questo qua Lo becchiamo alle spalle Ok Quello Lo becchiamo da qua Forse Merda no Ora si Ora no Dai cazzo Ok Manchi solo tu Ah no ancora uno Non posso morire adesso Ancora ce n'è E lì E lì E lì No Uuu Che culo Si Ancora ce n'è Dov'è Dov'è questa strategia Minchia c'è uno con la Gatling Oh Olè Uff Facciamo Fast runner Vai Minchia Datemi un cuore Però Così è impossibile Allora E uno No No Ok Ricarica 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 Veloce Si Sono tutti qua Ok Uff 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 No Come è potuto accadere Merda Cioè credo che le Uniche cose che Rimangano in giro Siano gli oggetti Perché davvero Sono sempre sempre un miliardo Quindi Dai no no Sono morto ragazzi No invece no Invece no Ora come corre Ora come corre Schiva tutto Ammazzano uno Due E cambia i ruoli Ora lui Vuole sopra Che frase ambigua Voilà 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 Ok Piano Piano così Si può fare No 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 Ricarica Ricarica No 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 Ok Ci sto prendendo la mano Anche in questo livello Questo cos'è Ho raccolto qualcosa Ma non so cosa Uh L'ho ucciso Te Te ho detto Ho detto te Ok Ora te Ho detto te Merda 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 ricarica Non mi frega niente Dei lingotti Voglio uccidere sti qua No No L'ultima vita Merda Sta qua comunque È la prova ragazzi Che Non si salva Ciò che fate Dovete sempre Ricominciare tutto Un po' Bruttina sta cosa Perché minchia Rende il gioco Impossibile Quasi A meno che Uno Non sia strabravo Con la Tastiera E il mouse No Ti prego Fammi andare avanti No No Cazzo È andata Però Stupendo sto gioco Minchia Come ha fatto Quello lì A fare 4 milioni E 23 mila Io ho fatto 154 mila Cioè È assurdo Vabbè Comunque Mettiamoci il nome Questo Basta ragazzi Voilà Fatto Ok Ragazzi Questo Era Fistful of Gun Vi rilascio il download Per il gioco In descrizione Fantastico Davvero Davvero Divertente Se volete Che Comunque Se volete Quindi Provarlo Anche voi Andate qua sotto E ci Troverete il link Io vi do appuntamento Al prossimo episodio Di questa nuova rubrica Bella ragazzi Lasciate un mi piace Un commento Diventate fan Solo fan Pesicolo tu Bella ragazzi Ciao Ciao